Da Claudio Zanardo un grande successo e devo dire che questo è uno dei più ben altri, cari amici, che il maestro Vittorio Borghese ha scritto al sax, dedicato al sax, questo grande strumento che fa ballare tutto il pubblico d'Italia. Per tutti voi, cari e gentili amici di Vignola, arriva Cuore di Mamma! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!